Mistretta è al primo posto per contagi con 380 positivi, un dato comunque parziale in continua evoluzione, un primato che di certo non avrebbe voluto mai avere. La situazione è decisamente allarmante, scarseggiano i tamponi e questo preoccupa sia l'ASP di Messina, sia i laboratori privati che non riescono più a contenere tutto questo flusso di persone che necessita del tampone. Siamo nel pieno della quarta ondata pandemica, scrive il sindaco di Mistretta, Sebastiano Sanzarello, su Facebook. E anche a Mistretta il numero dei positivi al covid sta aumentando giorno dopo giorno. In città abbiamo abbondantemente superato la soglia dei 300 casi, ma fortunatamente tra la popolazione non si registrano sintomatologie importanti, come non si registrano ricoveri, ma questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia. Rinnovo l'appello a tutti i cittadini, conclude il sindaco, a collaborare rispettando le regole imposte dall'autorità sanitaria. Invito chi ancora non l'avesse fatto a vaccinarsi. Al momento il resoconto sui paesi dei Nebrodi è questo. 57 casi ad Acquedolci, 0 dal Caralifusi, 33 a Brolo, 103 a Capodorlando, 29 a Caprileone, 93 a Caronia, 5 a Castel di Lucio, 15 a Castellumberto, 21 a Cerami, 18 a Cesarò, 16 a Capizzi, 25 a Floresta, 14 a Frazzanò, 26 a Galatima-Mertino, 56 a Gioiosa Marea, 9 a Militello-Rosmarino, 45 a Mirto, 380 a Mistretta, 16 a Motta d'Affermo, 31 a Naso. 0 a Pettineo, 13 a Piraino, 10 a Racuia, 9 a San Fratello, 25 a San Marco d'Alunzio, 13 a San Piero Patti, 13 a San Salvatore di Fitalia, 38 a San Teodoro, 91 a Sant'Agata Militello, 10 a Sant'Angelo di Brolo, 35 a Santo Stefano di Camastra, 23 a Sinagra, 127 a Troina, 49 a Torrenova, 113 a Tortorici, 45 a Tusa e 37 a Ducria.